oggi vado a spiegarvi come ho installato questa nuova dashcam sulla mia yamaha tracer praticamente ho acquistato la mia scelta caduta sulla blue sky c dv688 un modello praticamente composto da due telecamere un telecomando attaccato al cavo e un modulo gps che va a indicarmi la velocità questa dashcam che è questo modulo può essere praticamente far più funzioni ovviamente puoi fare sia da centralina registrazione che da retro camera anche se c'è da dire che il display non è di ottissima qualità dunque in corso usarlo come retro camera è meglio usare gli specchietti questa centralina può essere posizionata in due posti nella confezione danno diverse staff e se vogliamo inserla rimaniamo molto semplice può essere ubicata da qualche parte qua sul manubrio quei cavi oppure può essere ubicata all'interno della moto come ho deciso io tanto questa di sede da spiegare questa è una dashcam dunque non è una fotocamera si attiva automaticamente quando riceve corrente questo insomma ci fa c'è da un bivio sono praticamente due da due tipologie di configurazione di cablaggio in installazione sulla moto in pratica in dotazione abbiamo un cavetto del genere con usb dunque volendo senza romperci tanto l'anima possiamo posizionare quella da scama con le sue staffette in dotazione la scatola se sono tantissime attaccare un cavo sulla 12 volt tirare due cavi sulle telecamere e l'installazione molto semplice invece ho deciso di non affollare troppo il mio manubrio dunque praticamente ho deciso di attaccare l'alimentazione interna adesso andiamo a vedere un attimino allora tanto vediamo un attimo il tipo di installazione che ho fatto allora partiamo sulla parte anteriore questa è la telecamera ho deciso di posizionarla qui la via di mezzo è una staffa adesiva ho messo una vite giusto per sicurità anche se effettivamente non serviva e ha deciso di passare i cavi qua dentro ovviamente smontando il cianchetto ovvio adesso non vado a spiegarvi come si smonta ma ci sono vari video che lo spiegano e sempre qua dentro ovviamente smontando tutto ho fatto passare tutti i cavi da questa parte qui ovviamente ho smontato questo fichetto molto semplice che si fa tramite questa vite fatto passare i cavi da questa parte e praticamente fate uscire da questa parte qua adesso vediamo un attimo in specifico che cavi sono allora intanto abbiamo questo da scambio è composta da questo telecomando che ha due funzioni intanto ha un led che ti indica se sta registrando o meno molto utile nella mia configurazione dato che nel momento che la mia centralina sarà qua dentro qua dentro c'è un microfono e c'è un tasto questo tasto qui aiuta anche volenturalmente per scattare delle fotografie anteriore e posteriore ovviamente e veramente insomma in caso in caso incidente la dashcam si ferma da solo cioè registra in loop salva diciamo quel video prometti che non sono proprio caduto non solo non sovra incidere un'immagine cliccando allungo qua il diciamo un totti di minuti del video che sto registrando si salva dunque il cablaggio questo specifico l'ho fatto passare qua dentro e sostanzialmente internamente fatto fare più o meno stesso giro delle camera per l'alimentazione invece praticamente ho deciso che non potevo attaccare la batteria perché ovviamente questa quando riceve corrente parte registra automaticamente e allora ovviamente tutto ovvero due scelte sostanzialmente in realtà una scelta unica con questo cablaggio in dotazione che a questo modulino piccolino dovevo attaccarlo su una presa che arrivasse corrente quando accende la moto dunque la scelta è caduta sulla presa 12 volte ovviamente non sapendo in questo cablaggio da in fondo come arriva ho dovuto smontare il cupolino allora qui le scelte sono praticamente due praticamente la 12 volte quando viene scelta il moto arriva corrente dunque presa quando accendiamo la moto arriva corrente la das cam inizia a registrare allora qui ci sono due modi nel mio caso io non ho appellato secondo presa 12 volte dunque praticamente cosa ho fatto utilizzato la spina libera che non è questa in origine è un'altra questa qua nera l'ho tolta e praticamente siccome non trovando il connettore per un connettore specifico di amara ho comprato uno da un negozio di tonica semplice fatto la sua connessione praticamente utilizzato la presa libera praticamente qualora su questa spina se l'avesse già occupata per l'altra 12 volte potete utilizzare dei rubare corrente così questi quasi ne andiamo attaccare ci andiamo sostanzialmente in breve a rubare corrente dalla 12 volte facciamo una connessione e praticamente il risultato è lo stesso allora vediamo tornando nostri cablazi ah sì la telecamera dietro l'ho posizionata qui questo mi concede avere una bella visuale l'ho attaccata solo con l'adesivo ovviamente qui le viti non le ho messe il cavo ho deciso di posizionarlo sotto il porta tag ovviamente è il cavo di suo fa un po fatica a passare ci passa giusto giusto filo il connettore da questa parte non passa per installarlo ho dovuto praticamente evitare allentare queste quattro viti e far passare il cavo nella telecamera da questa parte è attaccato con lo che va troviamo il primo connettore della telecamera retomarcia e la telecamera frontale bene gli altri connettori sono sostanzialmente il cavo giallo che praticamente non è niente altro che il cavo di questo telecomando la macchina questa moto poi è composta anche da modulo gps che ho deciso di installarlo incollarlo a questa parte ovviamente una striscia bio adesivo e qua ovviamente il cavo poi le ho generato la connessione praticamente sua con questo cavo a y ok adesso vi faccio vedere come funziona il sistema ovviamente qua siamo in quarantena dunque video non ne posso fare di come sul lato finale ma vi faccio vedere un attimo come funziona il meccanismo dunque sostanzialmente io giro la chiave lui automaticamente si accende e inizia a registrare si accende guarda come se la moto fosse accesa e lui automaticamente inizia sentite il rumore sostanzialmente sta inizia a registrare sia davanti che dietro adesso vi faccio vedere un attimo le varie visualizzazioni sostanzialmente ma lui regista dunque se faccio praticamente schiaccio il tasto vedete qua c'è l'indicatore che sta registrando sentite il rumore si schiaccia sul tasto in maniera rapida lui sostanzialmente fa una fotografia quando vado a spegnere la moto il sistema si stacca e smette a registrare dopo qualche secondo si spegne il sistema si stacca e smette di schiaccia